quale volontario dell'associazione age pro associazione nazionale dei geometri volontari per la protezione civile in questa sezione vi porteremo a capire quali possono essere i giusti comportamenti da mantenere in ambienti chiusi in un evento calamitoso quale terremoto e come allontanarsi dalle proprie abitazioni non solo vorremmo anche formarvi su come gli eventuali arredi possono essere un danneggiamento per le persone in caso di un terremoto anche di bassa e media intensità per cui partendo dal concetto che il terremoto è un evento calamitoso non prevedibile in nessun caso sia esso di bassa o media intensità sia esso di entità più importanti può causare danni diversi il in questa sezione ovviamente parleremo della bassa o media intensità è bene partire dal principio che nel momento in cui l'evento sismico si manifesta la prima protezione è data da alle persone pertanto dobbiamo trovare all'interno del nostro edificio chiuso abitazione o eventualmente anche un ambiente per noi meno conosciuto quale un ambiente pubblico in centro commerciale piuttosto che un cinema o anche la scuola o anche l'ambiente di lavoro dobbiamo sempre trovare quelli che sono gli elementi che possono proteggere la persona per cui partendo da un elementare tavolo sotto il quale proteggersi nel momento della scossa dove si indica solitamente di contare almeno fino a 30 ma utilizzando un metodo un attimino più lento per cui utilizzando non numero 123 ma 101 102 103 perché nel momento del della della paura questo conteggio potrebbe arrivare ad essere accelerato rimarremo protetti o sotto un tavolo o sotto una trave o vicino comunque ad elementi portanti del fabbricato questo ovviamente diamo l'indicazione di contare fino a 30 ma in realtà dovremmo aspettare la fine dell'evento cosa si deve pensare in un momento di calma a quelli che potrebbero essere le situazioni che in qualche modo ci vengono a creare delle problematiche in caso di una scossa per cui pensiamo al nostro ambiente anche un semplice ambiente soggiorno dove magari abbiamo la nostra libreria con tutti i veri primi messe sopra e il vaso in alto perché fa decoro piuttosto che l'elemento decorativo anche un quadro messo su un divano da sopra un letto oppure una mensola montata sopra i letti dei nostri bambini o ragazzi dove magari sopra ci mettiamo le coppe che hanno vinto in un evento sportivo ecco questi sono tutti quegli elementi che ci devono far pensare perché in caso di una scossa una libreria non debitamente fissata al setto murario può essere un elemento che si ribalta che si ribalta addosso alle persone che si ribalta usando danni o semplicemente anche il il vaso che abbiamo appoggiato sopra perché ci piaceva in una scossa leggera questo può comunque avere delle vibrazioni tale da accadere e colpire qualcuno in testa un quadro non agganciato bene si può sganciare il caso di scossa e colpire chi magari sta dormendo nel letto non solo dobbiamo pensare che una libreria importante che magari si ribalta potrebbe andare anche a costruire nell'apertura di una porta per poi che poi potrebbe essere l'elemento di fuga stessa cosa ovviamente nei posti di lavoro le immagini che scorrono ci fanno vedere delle delle situazioni purtroppo avvenute nel sisma del 2012 in emilia dove in caseifici di parmigiano le strutture che sorreggevano le forme si sono ribaltate pur avendo addosso dei paesi importanti per cui pensiamo che qualora la scossa avvenga nel momento in cui l'attività lavorativa è attiva questo potrebbe causare dei danni non indifferenti alle persone per cui dobbiamo sempre fare attenzione nel momento in cui arrediamo la nostra casa i nostri ambienti di lavoro i nostri anche ambienti dove magari accedono persone terze per cui pensiamo ai supermercati dobbiamo sempre pensare a come stiamo arredando questa attenzione deve essere posta per proteggerci anche in altre situazioni ossia tutti ci piace fare magari delle belle cose nelle nostre abitazioni ma nel momento in cui andiamo ad operare all'interno delle ristrutturazioni dobbiamo sempre pensare appoggiarci a tecnici qualificati che indicheranno quali sono le strade e le procedure più idonee in modo tale che in caso di un evento sismico quelle ristrutturazioni non siano caso di danno ma anzi una protezione importante oggi abbiamo anche alcune bonus che ci possono aiutare vediamo il sisma bonus dove se appoggiati a determinati professionisti qualificati possono anche aiutarvi ad avere delle delle agevolazioni fiscali importanti per ottenere comunque delle delle migliorie nei vostri immobili come si vede le immagini che scorrono possono sono sfondellamenti di solai sono contro soffitti che cedono per cui anche le cose più banali dove si pensa di poter essere al sicuro in effetti poi possono risorgersi contro cosa fare nel momento in cui avviene la scossa non abbiamo detto che ci proteggiamo sotto una struttura come un tavolo con letto come sotto un'architrave vicino a strutture importanti dell'edificio dopodiché dobbiamo pensare a come uscire dall'ambiente dall'ambiente dagli ambienti che al chiuso si esce in maniera composta facendo attenzione ai percorsi che andremo a prendere per cui se dobbiamo scendere per delle scale dobbiamo fare attenzione a come le scendiamo non possiamo farle di non dobbiamo farle di forza dobbiamo percorrerle vicino al paramento murario che è la parte più solida sicuramente è sempre tastando quello che abbiamo sotto i piedi un po come quando andiamo in montagna e facciamo una discesa dobbiamo mettere passo passo per capire se sotto la struttura ci sta sorreggendo per cui usciamo dall'ambiente e quando siamo fuori dobbiamo fare attenzione a quello che troviamo perché comunque l'ambiente che è dintorno potrebbero aver avuto degli elementi che si sono distaccati magari anche non visibili un semplice comignolo su una copertura che noi non vediamo ma che in realtà si è staccato e in un evento o in bilico o per un'eventuale scola al trascossa può cedere per cui ci allontaneremo dalle nostre abitazioni dopo aver chiuso acqua gas e luce intesi proprio come elementi generali al fine di evitare che qualora vi siano perdite o fuga e si vadano a evitare ancora più danni o pericolo nel momento in cui si rientra ci allontaniamo dai fabbricati non stando vicino alle 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 pareti ma percorrendo le strade in al di sotto possibilmente dei marciapiedi diciamo dove di solito stanno le auto non nel mezzo di strada perché le strade per i mezzi di soccorso che potrebbero avere necessità di accedere alle determinate aree e allontanandoci sempre ovviamente avremmo dovuto scendere di casa con tanto di scarpe o comunque ciabatte e comunque con un elemento che ci copre ci allontaniamo e andiamo a dirigere verso le aree sicure che sono aree individuate con un sistema di protezione civile dai comuni e sono aree nelle quali i mezzi i soccorsi sanno che le persone si possono riunire e pertanto verranno cercate per cui riepilogando in caso di serremoto avendo ben previsto in tempi non sospetti un giusto arredamento che non ci ha in caso problemi avendo previsto delle giuste ristrutturazioni che in qualche modo ci hanno protetti perché l'elemento fabbricato era idoneo a subire una determinata scossa di terremoto ci proteggiamo vicino o sotto una trave sotto una porta vicino ad un muro portante sotto un tavolo sotto il letto facendo attenzione a tutto ciò che può cadere dobbiamo stare lontano ed eventuali finestre che potrebbero avere delle rotture dei vetri andando magari anche semplicemente a suo quadro finito l'evento usciamo rapidamente ma senza correre avendo cura di evitare gli ascensori ponendo attenzione alla stabilità delle scale avendo addosso un abbigliamento idoneo perché potrebbe anche far freddo pur essendo estate avendo i piedi protetti qualora invece si fosse all'aperto dobbiamo allontanarci immediatamente dagli edifici da alberi lampioni linee elettriche o comunque qualsiasi elemento che possa in qualche maniera costituire pericolo e in entrambi i casi dovremo andare a raggiungere l'area di attesa avendo cura di non intracciare la viabilità grazie per l'attenzione